Dopo essersi lasciate alle spalle la confusione di Bikini Bottom, SpongeBob e Patrick iniziano il loro lungo viaggio verso la città della conchiglia. Ma senza SpongeBob non tutto procede al meglio. Plankton ora vende i Krabby Patty al Chambucket e per ogni acquisto il cliente riceve un secchio il metto per il controllo mentale. Squiddy ha scoperto il piano di Plankton di creare un esercito di testa di secchio ma riuscirà a spuntarla? No. Alla periferia della città, SpongeBob e Patrick incontrano dei cordiali autoctoni che li informano che non dureranno molto fuori città. I nostri amici non prestano loro ascolto. Ma avrebbero dovuto farlo. Perso il proprio mezzo a forma di sandwich, i nostri eroi si ritrovano ora soli in un enorme deserto con soli i propri piedi come mezzo di trasporto. Plankton sta usando quelle torri radio per trasmettere i suoi malvagi messaggi in mare. SpongeBob, devi trovare un modo per disattivare quelle torri. Hai trovato i gettoni necessari. Ora posso insegnarti lo schianto. Ora mi sento un maestro. Wow! Grazie, Mindy! Quelle torri radio trasmettono i messaggi ipnotici di Plankton. Se non facciamo qualcosa presto, ogni creatura del mare sarà sotto il suo controllo. Devi andare nel deserto e disattivare le torri. Ma non è il periglioso deserto dal quale nessuno è mai tornato vivo? No, dovrebbe essere il deserto accanto. Ah, ok. In questo caso disattiverò le torri in un bacchibaleno. Aspiro maschiaggine. Anche nel yaugol. Ah! Oh Oh Aspettare, una rotura Oh Questi di fare hanno diventare macchi Adoro scartare i regali Oh 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 Ora non mi pare il caso di giocare a rincorrersi O ste stati in grado di pensare avreste pensato che è grande Saporito ma non pesante Ancian Bucket ogni acquisto ha un secchialmetto gratis Prendi il tuo oggi Avete sentito te? Ora Cian Bucket ha i crabbi patti E ci sono ancora molti secchialmetti a disposizione Per tutta la famiglia L'aria Plankton Oh su, devi portare via da Plankton Aspiro maschiaggine Anche gli miambeli I cittadini di Plankton Poi hanno l'ordine di catturare i traditori Spongebob e Patrick In caso vengano avvistati Lo senti? Lo hanno usato Di abbi Niente di meglio di queste cose from uomini Ragazzi, adoro la cazza al tesoro Sono idrodinamico Aspiro maschiaggine Anche l'invito Anche l'invito Super Spongebob salverà il mondo Hai mai sentito la storia della spugna che attraversa il deserto? No Nemmeno io Ah! 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 Ahahah! Hehehehe! Hehehehe! Siamo! Ahahah! Uhu! Uhu! Alciampa, Kentett! Ogni ha visto un segnaletto gratis! Prendi il tuo oggi! Alciampa, Kentett! Ogni ha visto un segnaletto gratis! Prendi il tuo oggi! Wow! Un'altra cosa! Un'altra cosa! Ahahahah! Ahahahah! Pippini Motto mi libera! Un'anima che è curata alla volta! Uomo! Ahah! 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 Prima Plantotoli, poi il mondo! E alla fine mi distruggerò tutti! Ah! Ahahahah! Oh... Da questo coso è acceso! Voste stati in grado di pensare, avrete pensato che è grande! Al Chump Bucket! Ogni acquisto ha un secchialmento gratis! Prendi il tuo oggi! Siamo uomini! Alla prossima! 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 Grazie a tutti Salto, saltino, saltello! Grazie a tutti 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 Amici Grazie a tutti 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 Grazie a tutti